Start, two, one, mystery mission and liftoff! Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Verne, The Shape of Fantasy. Io sono cresciuto con i racconti di Jules Verne o italianizzato come Giulio Verne, anche se lui era un autore dei tempi già vintage, nel senso che lo seguiva mio papà. E lui mi ha avvicinato al film e poi al libro di 20.000 leghe sotto i mari, il film di Viaggio al centro della Terra, dove c'è anche il libro, ma non l'ho mai letto. L'Isola Misteriosa, un vero, proprio, diciamo, seguito di 20.000 leghe sotto i mari e così via. Beh, qua ci troviamo a Emera, un mondo generato dalla fantasia di Jules Verne, dove siamo proprio Jules Verne e che viviamo le sue avventure. E' un gioco, insomma, molto interessante, molto pixel grafica, costa 15 euro al netto degli sconti, è uscito ad agosto di quest'anno e così via. Allora, andiamo a vedere una nuova partita e vediamo come è il gioco, insomma. Ci si muove con i tasti, W-A-S-D, e sì, dovranno completare i vari enigmi, le varie interazioni ambientali. E' molto interessante per gli appassionati di questo genere. Io sono cresciuto, ve l'ho detto, con Jules Verne, nel senso che ho amato e fantasticavo sul sottomarino Nautilus. Io stesso disegnavo su dei quaderni i miei mezzi sottomarini. Io ipotizzavo da piccolo un enorme trivellona, un po' quella di Volcanoids, dove scavavo sottoterra e andavo e avevo disegnato tutte le leve, tutti i pulsanti e cosa facevano. Cioè, ero un mini-ingegnere da piccolo. E questo gioco mi ha, diciamo, incuriosito per questo. Per quanto, adesso, io non so direvi la durata, non durerà tantissimo, infatti lo vedremo. La fine della nazione è molto vicina, Verne. Sei davvero confidente del tuo trionfo. Non appena abbiamo aperto il forziere, non sapremo che cosa si nasconde per 2.000 anni, ok? Praticamente qua stanno parlando che si parla che all'interno di questo forziere ci sia dentro la bussola del destino. Siamo qui con Nemo. Stiamo per cambiare il corso di questa dannata guerra. E stiamo tirando su questo forziere. Ecco, voglio resumo, perché l'avevo già letto questo. Questa scoperta cambierà tutto. Quindi siamo con Nemo, uno dei personaggi partoriti appunto da Verne. E siamo all'interno della Nautilus. Si parla della nazione, perché se ne parla anche in 20.000 leghe sottimabili. L'odiata nazione, insomma, non si fanno mai nomi, insomma, è un mondo alternativo. Capitolo 1 Allora, il gioco non è in italiano, ma essendo un'avventura di questo tipo non avrà miliardi di leghe di testo, quindi magari domani lo troverete tradotto. È un grande giorno per il Capitano. Mi ha chiesto di cominciare la documentazione mentre lui manda a rapporto la Cariù. Dopo mesi di ricerca l'abbiamo trovato. Non ho il benché minimo dubbio che la bussola del destino sia nelle nostre mani. Un vecchio artefatto, ok, che ci guiderà alla fiamma di Efesto, la più potente fonte di energia nel mondo. E qua abbiamo già un'emergenza all'interno del Nautilus. E qui abbiamo Q per iniziare, CTRL per muoverci e il tasto E per interagire. Vern, veloce, la nazione ci sta attaccando. Nessun singolo pezzo Atlantide, insomma, traduciamolo così, cadrà nelle loro mani. Mondio, merd, 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 ok. Ok, dobbiamo andare all'armeria. E quindi praticamente abbiamo la possibilità di vedere... Ok, questa è l'Imag, è un dispositivo Atlantean in grado di determinare, insomma, rilevare delle fessure nel flusso della realtà e offre all'utente diverse possibilità che possono succedere nello stesso istante. È un prototipo unico e che ha causato... Ha creato qualche mese prima, prima dell'incidente, che ha causato la distruzione della civiltà Atlantea. Ha creato... vabbè, adesso qui non voglio spoilerare eccessivamente, dobbiamo vedere un pochino com'è il gameplay. Ok, usciamo e andiamo in una meccanica davvero carina, anche quella del... Beh, qua abbiamo delle chicche. Noi siamo Nautilus, va bene. Possiamo interagire con tanti oggetti, ma in questo caso dovremmo prendere l'ascensore, che purtroppo è disabilitato. Quindi avremo modo di entrare qui dentro. Intanto qua possiamo dare un'occhiata alla mappa. No, noi siamo qui e questa è la mappa del Nautilus, con il core, dove c'è la fonte inesauribile, con la cabina, mi fanno impazzire queste cose. E praticamente tutta la struttura del Nautilus è fatta in questo modo, in sezione. Veramente uno spettacolo. Ora dobbiamo muoverci per l'armeria. Ho capito, ma l'armeria... Essendo un'avventura guidata, finché non notiamo che il percorso è chiuso, non ci attiva questa possibilità qui. C'è la possibilità di, tramite una scala, di passare da una sezione all'altra, arrampicandoci e salendo attraverso i condotti. A questo punto l'ascensore dovrebbe essere ancora bloccato. Vediamo se qui c'è qualcosa che... Ok, non si apre. Ah, qua non si capisce molto perché c'è la sezione del muro, non si può andare oltre perché è chiuso il muro. Ok, vediamo se qua l'ascensore mi ha detto non funziona, quindi prenderemo un'altra cabina, un altro condotto. E usciamo all'esterno. Eh, l'hanno ridotto abbastanza male il Nautilus. E ora inizia una sezione molto carina che ho messo un attimino a capire come funzionasse perché il gioco tiene conto dei ripari che abbiamo. Quindi noi siamo usciti all'esterno e ci stanno ispezionando. Qualora dovessero beccarci, non... ripartiamo, insomma. Ora, se premiamo Q, vediamo... Andiamo avanti. C'è un occhio che ci fa vedere se siamo visti o meno. Vedete che... Ok, ci stanno beccando. Adesso vediamo se riusciamo a passare oltre. No, però arriva l'altro oggetto. Io mi metto qui e non... Tecnicamente dietro questo boccaglio qui, dietro questo snorkel, non dovrebbero vedermi. Infatti vedete che non c'è luce su di me. Una volta che ci saranno andati oltre, noi possiamo andare e passiamo oltre. Vediamo se ce la facciamo. Mannaggia. Vediamo se non ci inquadrano. Perfetto. Passiamo oltre. E arriviamo qua. Forse la porta principale non è una grande idea. Proviamo. Vediamo. Zitti, 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 zitti. Passiamo di là. Ed entriamo dall'arietro. Ok. Vai all'armeria per proteggere l'I-MAG. È bloccato. Vabbè, scendiamo di sotto, vediamo. Oh no. Adam and Sean, che massacro. Ma aspetta. Queste ferite da proiettole non hanno perdita di sangue intorno. Gli hanno sparato dopo che era morto. È sconcertante. Vabbè, intanto vediamo se c'è qualcosa con cui possiamo interagire qui. C'è tutta tecnologia ideata nell'Ottocento. Ed è una cosa che mi... Ed è, secondo me, la tecnologia più affascinante, secondo me. Adesso dobbiamo capire da dove si va su. Mannaggia. No, scendiamo. A questo punto si può solo scendere. Vediamo se troviamo questo posto dove dobbiamo andare. È bloccato. Devo andare giù all'armeria. Forse potrei apparire le botole di sicurezza. Dal ponte. Map. Allora, tu sei qui. Il ponte. Vern's Cabin. Vediamo un po' dove è il ponte. No, eh... Bridge. Ma scusami, non ho capito se devo andare effettivamente al ponte o meno. Library Lab. Ok, non si può andare alla Library. Vediamo se... Eh, ma devo tornare su. Devo tornare su. Cosa è questo? No, ma non posso andare su. Commander Room. Chart Room. E questo è il Bridge. Mi hanno aperto. Ok. Chi è questa? Ed Ariel. Dove sono tutti? E Nadine? Il pilota è scomparso. Sembra che sia stato catturato con gli altri. Nella libreria. Eh, ho già visto. Che è successo? Non lo so, il Servo Radar non funzionano. Niente funziona. Ci hanno sovrastato. Non è tutto peggio quello che ha. Il Capitano ha attivato l'autodistruzione del Nautilus. Non lascerà mai che questa tecnologia cada nelle mani. Meno di dieci minuti. Io spero non compaia un timer adesso. Solo Nemo conosce il codice. Mi ha detto di proteggere la macchina e di parlare sempre che ci rilassiamo. Ma i motori sono currenti paralizzati, fino a che il Capitano reattivare il codice. E' per questo che stiamo ancora fuori. Oh, mio Dio! Che cosa facciamo? Perché Nemo sta riattivando i motori. Sei l'unico che può fare qualcosa. Non so che cosa. Non sono un soldato. Devi diventarlo. Ti aprirò la bottola all'armeria e fai qualsiasi cosa tu vuoi per salvare. Ma l'e-mag non è un'arma. Ma è meglio morire subito o passare la vita nelle miniere penitenziarie? Ok. Mi hai aperto la botola? Go to the armory. Ok, mi dice di muovermi, quindi io me ne vado. Alla control room dovrei apparire qualcosa. Sì, infatti dice che ho qualcosa da fare. Ma devo apparire... No. C'ha un po' anche di barotrauma. Ma io facevo questi schemi che vedete qua in basso a sinistra, quelli lì. Io disegnavo quelle cose lì da piccolo. E progettavo tutte le possibili, immaginabili funzioni che un sottomarino o un mezzo che andava sottoterra potesse avere. Adesso devo prendere questa... Non mi ricordo più che botola. Questa devo prendere. Sì, infatti questa. Andiamo. Cinque minuti all'autodistruzione. E poi imprecca in francese. Quello è francese. Non c'è niente con cui io possa interagire, quindi andiamo avanti. Dico a... Workshop. Ma andiamo avanti. L'armeria, eccola qui. Prendi quello che puoi. Ci sono armi lì, ma... Ok. Non ci sono flussi di realtà contaminate in pratica, vediamo. L'optorecorder mostra che lì è il Raven. Eh, non l'ho letto. E cosa devo fare? Pensi. Ficuri qualcosa. E' un'artifatto antiderio capace di determinare le rotture nella realtà e fare una piccola riscrittura a uno specifico momento. In caso di difficoltà, giusto per te. C, activate. Questa è un'artifatto antiderio capace. Ok, questa è una figata. R.T. Space. Vediamo un po'. Will it hold space? Questa è una figata fotonica, sta cosa. Andiamo. Ok, quindi lo usiamo. Vediamo se c'è qualcosa che possiamo fare. Release paper. Ah, perché si sono bagnate delle carte importanti, col sangue o con l'acqua, non so. The Nation. E praticamente premendo andiamo a vedere tutte le... Mamma mia, ma è una figata tutto questo. Cioè, non è un gioco sicuramente per tutti e molti, non staranno guardando il video sicuramente, perché si saranno già interrotti prima. Però, cavoli, che bello. Ok, andiamo di qua. Dovemo andare al core della nave, credo. Supply room. Vediamo. L'ascensore continua a non funzionare, immagino. Allora, noi siamo qui. Ok, dovremmo essere al punto di... Sì. Sotto di un piano c'è un corridoio di manutenzione che ci permetterà di entrare nel core. Boh, vediamo, andiamo avanti a vedere. Eh, ma non c'è niente. È il guiniente. No. Dobbiamo prendere l'ascensore. Eh, non si può. Questo. Ah, cì. Tidy person. Vediamo. RT. Boom proof. Vediamo un po'. Eh, sì. Carino. E quindi... Ah, qua c'è un altro pezzo che possiamo usare perché compare un'icona in basso. Last action. Sì, è qua. Come dicevamo... Figata che ho letto il manuale lì, la mappa, e ho visto del condotto. Sparate a volontà. Ok. E stiamo andando verso il core. Ah, qui? Ah, me lo fa usare anche qui. Qui devo premere. Posso fixare dell'electric board che dovrebbe essere questo. No. Questo. Non può vedere se c'è qualcosa qua che si può fare. No. Non ci sono flussi da realtà. E questo. Ma. Fix the electric board. Ma non so dove sia. Ah. Ma qui c'è qualcosa. No, è questo l'electric board, infatti. Uh. Fix the electrical panel by removing the melted part. Le parti fuse. Quindi. Choose part. Select. C'è praticamente. Devo eliminarle, ma. Ah, ok. Ok. Quindi. E questo lo spostiamo qui. Poi. Bellino, bellino, bellino. Tutto questo. Vediamo dove avercelo fatta. Bene. Sapete che non è male. Non è per niente male. Ed è anche abbastanza comprensibile per quanto vi dirò la verità parlando spesso in fretta mi perdo tante frasi. Ma lì sopra c'è il reattore. Bellissimo il reattore. Capitano Nemo lo hanno preso e hanno legato tutto l'equipaggio. Non sai quando arrendersi, eh? Certamente no. Il Nautilus è della nazione. Nelle mani della nazione. Dimmi come disattivare l'autodistruzione. Lascerò andare il tuo equipaggio. Significa che mi lascerai andare nelle mie penitenziarie. Morirò prima di lasciare Nautilus nelle tue mani. È una vergogna concludo una relazione come questa, ma... non... What am I doing? Vern? What are you doing? What the... Oh, you must be Mr. Van and that... thing... You're threatening me with the... ok allora use the image a piena capacità completare apriendo i tasti S è A S D A V Non aveva mai mostrato così tanta energia l'imag bisogna disattivare i 60 secondi di autodistruzione questo è il Nautilus che se ne torna sotto ok salvato il Nautilus preso l'achievement steam figo figo davvero capitolo 2 diving into memories south atlantic ocean ragazzi io direi che come video possiamo finire qui è veramente interessante dai mini giochi al fatto di poter rilevare le zone in cui potete alterare la realtà quindi fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e alla prossima ciao ciao